Ciao a tutti amici di Alessandro Tech World e benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo una video recensione di un prodotto Aukey, parliamo di un caricatore USB a 6 porte con la ricarica rapida sia Quick Charge 3.0 e 2.0. Andremo a parlare un attimino di questo prodotto, giusto un briefing veloce veloce, poi andiamo al banco e vediamo con il mio Mewker J7, che è il tester per l'USB, vediamo il mio Xiaomi Mi 5 a quanti ampere esce con la ricarica rapida. Infatti il prodotto supporta la ricarica rapida Quick Charge 3.0 e anche la 2.0. Per farvi alcuni esempi su alcuni terminali che potrete ricaricare con questo prodotto che vi faccio vedere nella foto, le due porte arancioni sono quelle con la ricarica rapida mentre invece le altre sono quelle normali. Potrete ricaricare per esempio in Quick Charge 3.0 lo Xiaomi Mi 5, che tra l'altro è quello che testeremo dopo e invece in 2.0 potrete ricaricare il Samsung Galaxy S6 o l'S6 Edge, l'S7 supporta invece la Quick Charge 3.0 che è sempre compatibile con questo prodotto. All'interno della confezione troverete un cavettino USB, micro USB, di sezione davvero molto importante perché è praticamente molto spesso, molto grosso e questo è l'indice del fatto che ho un cavetto di qualità, solito certificato di garanzia di Aukey e null'altro. Il prezzo di Amazon è circa meno di 29 euro e niente dai andiamo al banco, mandiamo la sigla e vediamo un attimino come si comporta questo caricatore di Aukey. Sigla! Ok ragazzi, vedete questa è la scatola di vendita del caricatore, molto bella. La andiamo ad aprire, vi faccio vedere all'interno cosa trovate. Lanciamo via la scatola, come dice il buon Galeazzi, lo saluto, tanto non mi guarderà mai. Questo è il libricino di istruzioni che vedete qui. All'interno ci sono tutte le varie istruzioni che vi dicono quali dispositivi potete ricaricare, tutte le varie tensioni di uscita che tra l'altro dopo vi farò vedere e andremo al test per vedere il nostro Xiaomi e il OnePlus 2 a quanto escono e quanto vengono ricaricati. Eccolo qua ragazzi, ho collegato il mio Xiaomi Mi 5. L'ho appena collegato, è al 58% di batteria. Intanto che vi parlo, andiamo a vedere il mio KJ7 quanto sta erogando. sta erogando 5V e 98 e 2.47A per verificare la tensione di uscita. Eravamo prima al 17%, lui è già in carica. Andiamo a vedere quanti ampere esce. Vi ricordo che il caricatore ufficiale di OnePlus 2 che non supporta la ricarica rapida esce a 2A ora. sta erogando 5V e 6A e 1A e 14A quindi è praticamente un po' sottostimato. Potrebbe erogare ancora più ampere. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente il telefono si ricaricherà un po' più lentamente ma questo garantirà sicuramente una durata e il senso di vita della vostra batteria sicuramente più lunga. da OnePlus 2, da Xiaomi Mi 5, dall'iPower, anzi dal caricatore Aukey. Il modello lo trovate qua. IAT11 è tutto. Io vi ringrazio e vi lascio al prossimo video. Ciao dalle Sanotec World.